ragazzi eccovi qua dal bosco incantato lungo il fiume qua sto facendo il mio giro serale con il mio fuoristrada il mio pick up ho approfittato di una serata non troppo caldissima e note sono le 12 e 15 faccio un giretto e poi vado a casa sto testando un po il sistema devo assolutamente ricordarmi di cambiare la cassetta dietro che questa è senza devo rimettere sulla shimano perché non sono compatibili senza 11 velocità con shimano 11 velocità senza e compatibili a sdramma infatti sento degli attriti ogni tanto lo farò più presto e intanto mi godo questo giro con questa come vedete ho messo qua ho finito la luce perciò devo arrangiarmi con la luce del casco fortunatamente è una luce qua davanti ma come vedete è tutto illuminato anche se a notte fonda qua sto testando queste borse arriveranno delle altre borse da provare e avanti cosa ne pensate di questo guido è molto comoda non è un siluro ma è comoda e non è faticosa da pedalare diciamo diciamo così bella fluida come pedalata il manubrio è uno spettacolo devo gestare un po perché mi sembra che tira un po verso sinistra infatti sì non ci sta un po un attimo di tempo domani è venerdì caspita la cia si avvicina il fine settimana di fuoco abbiamo fatto sto gioretto qua l'acqua azzurra guardate che bella e ci vediamo il prossimo video ragazzi qua sapete già tutto arriveranno i prossimi i prossimi pezzi da testare e vedremo un po la situazione che non casco giù nell'acqua perché se no è finita eccoci qua giretto serale nel bosco fatato vicino al fiume azzurro buona serata a tutti ciao ciao